Manca poco più di un mese alla partenza dell'ottava edizione della Corsa del Mito. La gara podistica che collega Marina di Camerota e Palinuro è disegnata in un percorso di 15 km molto suggestivo. Dal porto di Palinuro a quello di Marina di Camerota, gli atleti attraversano la macchia mediterranea costeggiando le splendide spiagge e cale della costa a sud di Salerno. Ma la Corsa del Mito non è appunto solo corsa. Nel calderone di emozioni l'associazione Tutti Insieme, preseduta da Mario Scarpitta, ci butta un po' di tutto. Ci sarà infatti Valerio Iovine e il suo reg ad allietare la sera di sabato 13 maggio. Al termine della Corsa il porto di Camerota si trasformerà in un'arena sul mare piena di giovani e divertimento. Al mattino però il minimito, la gara per i più piccoli e ancora alle ore 10, sempre nella giornata di sabato, disabilità e competizione, puntare oltre i limiti. Un convegno molto interessante al quale prenderanno parte la professoressa Laura Soscia, psicoterapeuta in metodologie dello sport, l'onorevole Laura Coccia, parlamentare e campionessa paralimpica, il dottore Antonio Gambacorta, regione campania special olympic. L'incontro sarà moderato dalla professoressa Paola Brancaccio e oltre agli esperti parteciperanno anche Imma Cerasulo, campionessa paralimpica e oro ad Atene nel 2004, il professor Giuseppe Marmo, presidente Kodakan Sport Napoli, Davide Tizzano, campione olimpico di canottaggio e dirigenti del CONI. Saluteranno Mario Scarpitta, presidente di Tutti Insieme, Sandro Delnaia, presidente Fidal Campania, Sergio Roncelli, presidente CONI Campania. Insieme a Tizzano un altro testimone all'estato confermato dall'associazione Tutti Insieme. Si tratta di Alberico Di Cecco, atleta italiano specializzato nelle lunghe distanze. Ha vinto la Maratona di Roma nel 2005 stabilendo il suo record personale di 2 ore, 8 minuti e 2 secondi. Di Cecco ha partecipato ai campionati mondiali nel 2001 e nel 2003, ottenendo rispettivamente il 17esimo e il 22esimo posto. Nelle Olimpiadi di Atene nel 2004 arriva Nono con il tempo di 2 ore, 14 primi e 34 secondi. Nel 2008 ha ricevuto una squalifica di due anni per doping dal CONI, risultando positivo all'EPO in occasione di un controllo effettuato alla Maratona d'Italia, Carpi, valida come campionato mondiale militare. Nel 2011 debutta nelle gare di ultramaratona, correndo la 100 chilometri del Passatore, giungendo secondo dietro Giorgio Calcaterra in 6 ore, 28 primi e 48 secondi. Nel 2012 partecipa a Seregno al campionato mondiale della 100 chilometri, vincendo la medaglia di bronzo in 6 ore, 40 minuti e 29 secondi. Nel 2014 diventa campione italiano sulla distanza della 100 chilometri, sempre a Seregno, chiudendo con un tempo di tutto rispetto, 6 ore, 47 primi, 43 secondi. Sì, in effetti siamo a meno di un mese dalla ottava edizione della Corsa del Mito, questa gara internazionale che ci sta dando tante soddisfazioni. È una macchina complessa, come bene dicevate, è quindi una macchina ben registrata, però sempre in una fase di crescita. Noi cerchiamo sempre di curare i particolari e quest'anno saranno tantissime le novità. Innanzitutto mi piace annunciare i primi testimonial della Corsa del Mito. Sono in effetti due grandi campioni, come per le passate edizioni, ma se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni. Il primo è Davide Tizzano, è un grande campione olimpico che nella disciplina del canottaggio ha vinto due medaglie olimpiche. Il secondo è il grande maratoneta Alberico di Cecco, campione nazionale e vincitore della Maratona di Roma. L'altra novità importante è questo meraviglioso convegno che quest'anno la nostra associazione ha voluto organizzare. È in effetti un tema molto sentito da parte nostra, disabilità e competizione puntare oltre il limite. In effetti è un tema importantissimo, molto sentito, come dicevo, aiutare chi ha una disabilità e un dovere. Ma il vero succo del convegno è appunto le imprese straordinarie di alcuni grandi campioni, atleti disabili, che hanno vinto prestigiose medaglie olimpiche e daranno la loro testimonianza di come nello sport la disabilità può superare ogni limite. Perché sono questi i veri campioni che, nonostante le loro gravi avversità, riescono con lo sport a realizzare risultati, diciamo, inaspettati. E quindi superano con il sacrificio, con la passione, con la determinazione e soprattutto con la tenacia ostacoli che sembrano insormontabili. E questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare in questo convegno che, ripeto, è una parte eccezionale. Ci sarà il presidente della FIDAL, Sandro Del Naya, ci sarà Sergio Roncelli, presidente del CONI, ci sarà il responsabile FIDAL del Cilento, il dottor Carlo Giuliani, nostro concittadino, ci sarà Laura Cioscia, psicoterapeutica, metodologia dello sport, Laura Coccia, una parlamentare, campionessa olimpica, Antonio Gambacorta, che è uno special olympic della regione Campania, oltre chiaramente a Imma Criscuolo, che è una campionessa parolimpica che ha vinto l'oro ad Atene nel 2004. Poi ci sarà Giuseppe Marmo, presidente di CODACON, e i nostri testimonial che abbiamo appena annunciato. Tutto questo sarà nella zona Porto il sabato mattina in un palatenda che abbiamo organizzato. Mi fermo qui dicendo che siamo molto soddisfatti, si sta andando oltre ogni più rose aspettativa, tra i problemi che abbiamo ne abbiamo uno piacevole che è quello del tutto esaurito, già le nostre strutture registrano il tutto esaurito e questo per noi è motivo di grandissima soddisfazione. Ringrazio quanti si stanno impegnando per questa meravigliosa manifestazione che tanto lavoro e tanto sacrificio, ma anche tante soddisfazioni, regala a tutta la nostra cittadinanza. In primis vorrei già ringraziare tutte le forze dell'ordine che si stanno veramente stringendo intorno alla gara. In settimana avremo una task force organizzativa con tutte le forze dell'ordine, carabinieri, vigili urbani del Comune di Camerota, di Centola, protezione civile e tantissimi volontari delle varie associazioni. Chiudo ringraziando anche Cilento TV per l'impegno e per la costanza con la quale sta seguendo il nostro lavoro e do appuntamento a tutti i bambini del Minimito per la quinta edizione che sarà ancora più esaltante. Tante sorprese anche per i bambini grazie alle tantissime mamme che in questi giorni si stanno prodigando per il buon risultato della manifestazione. Colgo anche l'occasione per augurare a tutta la cittadinanza del nostro Comune una buona Pasqua.